www.mesmerism.info Noi cerchiamo di far capire al cliente che ci interessa molto lui, ci interessano molto i suoi obiettivi, i suoi problemi cioè vogliamo riuscire a far capire al cliente che siamo al suo fianco per aiutarlo a raggiungere quegli obiettivi per i quali lavora ma risparmia per il proprio futuro. Noi vogliamo essere al suo fianco e se riusciamo a far capire questo al cliente abbiamo raggiunto il nostro scopo. La consulenza è il principio sulla quale si basa il nostro lavoro, prima di chiamarci Femmini Banker ci chiamavamo consulenti globali. Oggi in questo mondo di tassi bassi o addirittura negativi la consulenza è diventata importantissima per la clientela, ribadita per di più dalla Mifid, ecco perché abbiamo chiamato questo luogo la casa della consulenza perché Mediolanum è la casa della consulenza, non solo questo ufficio ma tutti gli uffici dove lavorano i nostri Femmini Banker.